Ritrovati interessanti per la sicurezza del volo, una nuova speciale vernice che si pretende più efficace delle altre già sperimentate allo scopo di impedire la formazione di ghiaccio sui velivoli, tanto pericolosa la navigazione aerea per l'appesantimento che provoca e perché talvolta può perfino bloccare i controlli con fatali conseguenze. Una dimostrazione dell'efficacia del prodotto ci viene offerta a mezzo di un modellino protetto dal preparato su un solo lato e quindi sottoposto alla bassa temperatura di una camera frigorifera. Un altro dispositivo utile allo scopo e già in uso è quello pneumatico azionabile dal pilota a mezzo di un semplice bottone che serve a sgrostare il ghiaccio già formatosi.